Ciao Vlad, eccoci finalmente al McDonald's Sì, ho parcheggiato, vedi Allora, come ben saprai Cosa hai fatto? Ho parcheggiato Va bene, come ben saprai ci hanno invitato a costruire una base segreta sotto al McDonald's Quindi oggi, come vedi, siamo in modalità creativa E dovremo dare il meglio di noi per dare una buona impressione al McDonald's Chissà cosa fanno in un bunker segreto al McDonald's Secondo me è contro un'apocalisse zombie Ma cosa c'entra? Fanno gli hamburger Oh, ciao, che va la sedia Oh mio, ma è a tema pirata questo McDonald's È l'Happy Meal Che figata Eh sì, sono i regalini dell'Happy Meal Che figata Allora, ci hanno detto che... Tra l'altro, fatemi vedere la cucina Sì, vabbè, entra lei, l'ispettore sanitario Salve, salve Oh, caspita, vorrei un panino ma non c'è nessuno Deve resistere, mi disse, non è orario Allora, in teoria... Noi andiamo giù a fare i nostri cosi Non funziona? Dobbiamo già aggiustare questo? Ah, ok, va bene Allora, qui c'è la discesina Oddio Wow È molto inquietante, voglio dire Wow Sì Ma qua dentro ci sta tutto il McDonald's che c'è là sopra Esatto Ma è gigante Ma cosa sono queste cose qui? Sono patate Sono patate Eh, ma se vedi che mettono qua le patate Per fare le patatine fritte Ecco perché hanno quel sapore Mmm Ok, allora, diretta Prima di tutto dobbiamo cambiare i muri Quindi utilizzerei rosso Giallo Allora, aspetta Però, cosa hanno detto? Cosa gli serve in questo bunker? Ma io farei tipo camere da letto Zona cucina E se devono E se è un bunker per sopravvivere Va bene No, va bene Va bene Ok No, pensavo a un bunker tipo con i cannoni Io non lo so Perché nel caso Cannone Pew Ed eravamo posto Guarda, si mirava direttamente alla scala Così se arrivavano gli zombie Psss Ed era posto Certo, certo Allora, qui io cambierei i muri con la lana rossa Perché i colori principali E poi facciamo il soffitto con la lana gialla Che è quella del McDonald's Vero, vero E Anzi, faremo, potremmo anche fare tipo delle strisce così Ma no, 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 no Ah, sì, lo stai facendo in quel modo Sì, perché poi ho paura che poi si scavano di un blocco E entro nel McDonald's E rovino la giornata a qualche povero bambino Che sta mangiando Sì, le pibili Ciao Ok, abbiamo finito? Sì Basta, bene, ok Sto coprendo le ultime luci Dici che gli basta come bunker Io direi che di sì, può andare Eh, no, dobbiamo ancora decorarlo a dovere Allora, già che ci sono Toglierai questa pietra brutta qui Sì Metterei tutto rosso Però, allora, aspetta Hai detto che hanno bisogno di camere da letto Bani, quelle cose lì Allora non possiamo tenere tutto aperto Dobbiamo fare delle stanze Sì, lo so È un casino Allora, vediamo un attimo come dividerlo Dunque, supponiamo che questo è l'ingresso Perché, ovvio, questo è l'ingresso L'altro cosa vuoi che sia Ok, questo è l'ingresso E basta Allora, qui è l'ingresso Allora, qui è l'ingresso in un certo modo in cui è solo un ingressino piccolino O lo facciamo stra aperto O lo facciamo stra aperto A mo' di salotto Allora, mettiamo una lì perché poi è troppo corta E qui mettiamo l'alluminite Ok, perfetto Ci siamo Ok, anche qui devo spegnere l'alluminite Sì, allora Farà una stanza piccolina Un bagno E direi che la camera da letto è a posto Poi vedremo se avremo spazio per fare neanche un'altra Tipo cose del genere Ma sicuramente magari riusciamo a fare un piano superiore È vero Potremmo fare due stanze Una sopra la Geniale Eh Così possiamo Allora, metto la luce un po' dappertutto Possiamo portare ancora più gente nel bunker Tutti i dipendenti del McDonald's Un bunker condiviso Esatto Perfetto Ed è illuminato Poi devi uscire da qui Ok, perfetto Allora Dove potrebbe essere la tua? No, Vlad No, devi farlo in rosso Così facciamo la La M di McDonald's in giallo Hai capito? Ah, no È geniale, Lari Eh sì, non ce l'avevo pensato Sei un genio Questa M sembra un cuoricino, Lari È un cuoricino Però aspetta C'è un qualcosa di sbagliato O sbaglio No, no, è giusto No, aspetta Sì, è giusto Però boh Dici che va bene? No, aspetta Hai sbagliato Hai ragione Non capisco nulla Anch'io Metto la luminite Così Ecco Così è giusto Sì No, no No, perché sta cosa No, perché sta cosa Questo da me No, ma anche lì è da due Ma appunto è da due Non capisco Senti, aspetta Aspetta Finiamo Finiamo e capiamo Non era meglio fare un'AM gigante unica? No Eh vabbè Qui tac Eh, tac Ah, e qui viene così Sarebbe di tre Facciamo questa di tre Non ci sto capendo nulla Un'apertura, così Dovrebbe essere Eh E quanto spazio c'era lì? Uno Ok, c'era un blocco di spazio Quindi dovrebbe No, sto distruggendo il muro Allora Così, 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 così E poi di due Hai fatto qualcosa di sbagliato? Dici Sì, decisamente Cos'è sto scritto? Oh, ops Oh, ma io sto Me ne sono accorta Ora che questa non è tipo La bandiera della Spagna Oddio, è vero A parte il fatto che comunque Dai miei calcoli Il muro è più piccolo di un blocco Di quello che dovrebbe essere Quindi è per quello Che questo è sbagliato Eh sì Ok, facciamo Secondo tentativo Ok, allora Sono delle M Un po' veramente sinelle Però sono delle M E vabbè Non guardiamo Eh, infatti Boh, è strano Dai, allora C'è una camera da letto Sì, c'è una camera da letto Ah, la legge è divisa in due piani? Sì Andiamo a mettere le scale Stiamo a un pipistrello Il problema è Come fai ad arrivare al piano sopra? Metteremo delle scale, Vlad Sì, ma da questa camera Tipo uno dorme E tu Mmm, scusa il disturbo Vado solo sotto Ora Che potete in bianchi Oppure che c'è la cosa aperta Per la scala Pioli Così uno mentre fa le puzzette Qui lo sente quello sotto Cioè Ora E mettiamo la scala Pioli Aspetta No, forse la mettiamo da fuori In un modo Oh, bello Ti fai il parkour Dalla M di McDonald's Ed entra No Facciamo così che entri Chi se ne frega Eh, chi se ne frega Non è che dormi te Noi siamo solo Dei designer Infatti Poi bella Bella reputazione Che ti fai fare Designer Allora Letto Fare un letto doppio E senti qui la genialata Un letto rosso E giallo Eh Grazie Geniale Vero Allora Prendolo al double bed Perfetto Lo metto No, non qui Lo metto qui E poi l'altro Tac Perfetto Sembra Ketchup Senape Più che maionese Però va bene Ok Va bene Anche la senape Ah, però caspita Il WC Vabbè Il WC Lo facciamo Ma il bagno Lo facciamo Oh, caspita È vero Bisogna fare il bagno Anche E io ero convintissimo Che faccio una stanza Sì, in effetti Sarebbe stata un po' spoglia Allora Fai una cosa Il bagno Te fallo sulla parte destra E io lo faccio Sulla parte sinistra Va bene Va bene Così sarà Tipo a specchio Riflesso Cadi nel cesso Bene Allora Credo che i bagni Dovranno essere Più o meno simili Non possiamo farli diversi Giusto? Oddio Allora aspetta Dobbiamo farne uno insieme Sì Ok Va bene Oh, lo stesso spazio Identico del mio Perfetto Sai com'è? No, ma tu avresti potuto Mettere il muro In qualsiasi altro Vabbè Comunque decidiamoci Io propongo Di mettere Questa Che ne dici? Dai Perfetta per un bunker Facciamo Una bellissima gialla Ma mi posso sedere? Oh sì Mi posso sedere Che bello Fai schifo Vai via Ma sarò pure vestito Facciamo le docce No Le docce No È brutto Almeno la Vabbè Vabbè dai Metto la Toilette Il WC Poi mettiamo Una carta igienica Che è molto essenziale Però se succede L'apocalisse Finisce la carta igienica No È terribile Devi usare Gli asciugamani Poi qui mettiamo Un lavabo No meglio questo Che c'è già il robinetto Va bene Ok Allora mettilo anche da quest'altra parte Eh ma quanti? Eh due Perché? Così Qui invece mettiamo la doccia Ah aspetta Geniale Aspetta Mi servono i banconi da cucina Dove sono i banconi da cucina? Perché facciamo i banconi Quelli per metterci Lo spazzolino Le belle cose Ah va bene Ci può stare Dov'è? Poi vetro Così non vedo Nessuno Vede quando L'altro si sta facendo la doccia Eh infatti Poi mettiamo anche Un po' di asciugamani Che figata Sì bellissimo Se ti levi Così posso mettere Gli asciugamani Grazie O li metto qui No li metto qui Gli asciugamani Bene Come desideri Ok Direi che ci siamo Ora ci manca la porta Ma cos'è sto asciugamani Cosa serve sta roba? E qui la porta Oh yes Ci siamo Ok perfetto Ben bagno Mio Dio Aspetta No non posso metterci No Da uno Ti prego No fammelo desidera Oh sì perfetto Che bello Spazzolini Sì Gli spazzolini per forza Essenziali Sì Ok ci siamo Il sapone Aspetta Manca il sapone No Serio E non lo devo metterlo Eh vabbè niente sapone Ah qui invece Sai cosa potremmo fare? Potremmo fare tipo Un piccolo soggiorno Perché abbiamo detto Perché abbiamo detto che è una camera da letto No la camera da letto I letti sono sopra Qui c'è una stanza relax Geniale C'è ragione è vero Facciamo un salottino Esatto Sono come dei mini appartamenti Infatti Perfetto Dai che forse abbiamo finito In teoria non dovrebbe mancare Nulla Facciamo un ultimissimo giro Per controllare Esatto Allora cestino C'è C'è Le carote Il mercato L'angolo del mercato Le pannocchie Mele Sì Qui invece c'è l'angolo relax Per i vecchietti Sì esatto Che guardano Proprio sul campetto da tennis Ma anche da basket Così puoi lamentarti Quanto Eh questi giovani Che lanciano le palle in giro Sì Infatti Come vedi c'è un terreno Qui di tennis E in più c'è anche la palla da basket A tennis? Sì Ma non potevo fare un cappetto Un cappetto da basket Quindi ho dovuto metterlo Ah quindi si usa la palla da basket Per il tennis Sì Ho capito Poi qui invece c'è l'angolo Cucina Ok Che ha il sante cross Bellissimo Così chi ha fame Basta che arriva Prende E cucini mentre guardi La partita di tennis E' veramente figo Così ti arriva una pallonata in faccia Mentre cucini Effettivamente non ci ho pensato Deveva mettere un vetro protettivo Vabbè staranno attenti Esatto Eh oh per forza Per forza Poi palloncini Sì molto tema McDonald's Infatti sicuramente Dovrò piacergli Perché oh Sì ma per forza Si è impegnato Basta che non li fanno scoppiare Poi ci sono i due appartamentini Allora Sì Devo dire che è troppo bello Mi piace un casino Sì 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 Tanta roba Qui c'è la tv Zona salotto Insomma peluche Molto a tema divertimento Poi vabbè il bagno Che abbiamo già fatto Il problema sono queste scale Che è un po' un casino Però vabbè Si sale E poi Mamma mia quanto spazio qui è Non so è enorme Potremmo metterci ancora più letti Però ho pensato Che poi ingombrano C'è anche l'angolo del computer Bello Mi piace Sì sì per forza È della stessa cosa Dall'altra parte Perché gli appartamentini Sono identici Sì infatti Allora Vediamo un'ultima controllatina Anche qui Poi c'è un pipistrellino domestico Che gira per Anche lui Sopravviverà Sì esatto Grazie a questo bunker Ok È identico Il bagno Sì effettivamente Sì è tutto uguale Sì sì Per forza Come lo vuole Devi diverso No 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 Ci sta Ci sta Ok Direi che il nostro lavoro L'abbiamo fatto Speriamo che sia anche accrezzato Esatto Andiamo a prenderci i menu gratis Infatti Vero Dai dai Andiamo Ciao